Manca davvero poco poi gli studenti, il personale scolastico dell'istituto professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera Roberto Virtuoso di Salerno avranno una nuova casa. Ormai prossimo infatti il taglio del nastro per la sede completamente rinnovata grazie ai fondi comunitari. Ai nostri microfoni il dirigente Gianfranco Casaburi. La sede storica della scuola via Salvatore Calenda che è in funzione fino al 1959 perché è stato uno dei primissimi alberghieri della Campania, anzi il secondo dopo il Cavalcanti, che per tanti anni attendeva un restyling. Adesso abbiamo fatto un'operazione grazie ai finanziamenti europei, un progetto patrocinato dai fondi europei di sviluppo regionale con il progetto della provincia di Salerno che è stato portato a compimento felicemente. Quindi la scuola si è riattrezzata sotto il profilo di sicurezza, abbiamo realizzato delle scale di sicurezza, un ascensore per i disabili, abbiamo rifatto tutto l'intonaco, sostituito le finestre che assicurano ovviamente il risparmio energetico e in generale la scuola ha assunto, oltre ai laboratori che già aveva, un aspetto assolutamente più confacente alla sua dignità. Diciamo quindi non solo una didattica di qualità ma anche una struttura accogliente e all'altezza. E diciamo che dopo 60 anni quasi ci voleva, anche come per le signore del cinema, anche noi abbiamo fatto un lifting che però non è stato solo di apparenza ma di sostanza. Quindi finalmente possiamo rispondere alla distanza di sicurezza, grazie ai finanziamenti europei che sono stati cospicui perché abbiamo avuto un finanziamento iniziale di 750 mila euro e l'abbiamo messo a buon frutto. Grazie. 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 Grazie.